Buongiorno a tutti, io vi porgo il saluto delle imprese del Lazio, un sistema molto articolato di oltre 5.000 imprese associate a Confindustria, lo dico per il professor Pica, largamente focalizzate sui servizi. Il nostro sistema economico è un sistema per oltre il 70% basato sui servizi, in particolare l'area di Roma lo è addirittura per quasi l'85% rispetto al settore manufatturiero. E peraltro per avvalorare la sua tesi, questo probabilmente è uno dei grandi motivi che ci ha permesso di crescere il doppio del resto dell'Italia negli ultimi dieci anni e di decrescere meno del resto dell'Italia quando si è sentita mordere la crisi nel 2008-2009. Una grande ricchezza per Roma, quella dei servizi, non solo della consulenza, ma anche dei servizi di alta tecnologia, motivo per la quale oggi mi fa essere presente, anche se non in splendida forma fisica a presenziare e a concludere questa giornata di lavori, mi contrappongo all'abbronzatura del mio amico Sasson che è talmente spettacolare che la consulenza proprio fa bene, vi aiuta a crescere meglio, però in qualche modo è anche consulente, conosco da tanti anni la sua attività. Però non volevo mancare oggi, ripeto, per portarvi il saluto delle mie imprese del Lazio, di Confindustria, al di là di quello che spesso, come dire, con termini comuni, ve l'ha ricordato il vostro Presidente, viene accomunata la consulenza alle cosiddette spese inutili, io ritengo un grandissimo valore il vostro settore, una grande risorsa non solo per l'economia del Lazio, ma per l'economia del Paese, una risorsa che andrebbe meglio utilizzata e meglio integrata rispetto al nostro sistema economico e quindi mi sento di dire, ma lo dico a nome di Confindustria tutta, esprimermi l'orgoglio per il vostro settore di essere parte del nostro sistema che per quanto ancora manufatturiero e per quanto ancora non riesce del tutto a scrollarsi quei luoghi comuni che venivano ricordati oggi, un settore nel quale i servizi si stanno affermando e soprattutto i servizi di alta specializzazione troveranno sempre più spazio. Io credo che l'attività di consulenza direzionale ha svolto un ruolo importantissimo e rilevante per la crescita del capitalismo italiano negli anni 80, stimolando, supportando quello spirito imprenditoriale nell'elaborazione dei piani di crescita, di sviluppo, con le competenze poi manageriali che si sono acquisite all'esterno. Nel tempo la vostra attività è cambiata, probabilmente cambierà ancora, lo diceva il Corlo Bianco, va interpretata differentemente, si è ampliata, si è qualificata dall'elaborazione di una strategia in teoria, si è passata allo sviluppo di una strategia orientata sin dall'inizio della sua attuazione contestuale, accompagnando anche quei cambiamenti necessari all'espandersi dell'organizzazione di riferimento. Ai consulenti oggi viene richiesto il compito importante di favorire il cambiamento e di identificare ciò che in un'azienda deve essere modificato, ad esempio nei processi, nelle competenze, per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che si sono dati il management, che si sono dati gli azionisti. Nello scenario attuale che rimane uno scenario, lo ha detto la Presidente Marcegaglia, il Governatore Draghi, ancora di persistente difficoltà per agganciare quella che è la ripresa internazionale più forte e più spinta, deve essere necessario anche per un'azienda migliorare e ripensare i modelli di business che governano la propria organizzazione. Occorrono quindi nuove idee, nuovi modi strutturali, nuovi cambiamenti di processo per cogliere questa ripresa e occorre anche che questo avvenga col supporto di partner che hanno delle competenze anche diverse rispetto al passato. Lo diceva bene il vostro Presidente, la consulenza che non produce valore è una consulenza che non serve al cliente. Questo è un approccio, non volevo parlarne oggi, che abbiamo adottato anche nella nostra organizzazione. Un'industria è la prima organizzazione, dopo molti anni di dibattito all'interno del sistema confindustriale, che si unisce, che razionalizza le proprie strutture e lo fa con l'unico vero obiettivo di fornire maggior valore aggiunto a quello che è il suo cliente, e cioè l'associato. Noi ci poniamo di fronte alle sfide future, a delle istituzioni che cambiano nelle loro competenze, a delle regioni che assumono maggior rilevanza dal punto di vista di competenze relative all'impresa. Noi ci vogliamo porre come un'organizzazione che elimina le burocrazie, che elimina quegli sfridi e quelle duplicazioni e invece si pone e si focalizza su quelle che sono le vere cose utili per i nostri associati. E lo abbiamo fatto, mi piace qui ricordarlo, su tanti temi, su tanti progetti che stanno cercando di modernizzare il nostro territorio, dalla banda larga al nuovo raccordo elettrico, alle complanari, alle metropolitane, al raddoppio di Fiumicino, tutta una serie di opere che ci auguriamo ci portino verso un sogno, che è un sogno di grande trasformazione nel nostro territorio, che renda questa una grande area metropolitana, al pari delle grandi aree metropolitane europee. Anche nel vostro settore, in maniera poco tangibile, abbiamo fatto un piccolo passo avanti, vi do una piccola novizia, forse non lo è per qualcuno, ma qualche giorno fa con la Regione Lazio abbiamo siglato un protocollo veramente innovativo nel settore che mi auguro sia esteso anche alle altre Regioni, che permetterà alle imprese che incaricano un giovane consulente sotto i 35 anni, iscritto in qualsiasi ordine professionale, è importante che sia sotto i 35 anni che risieda nella Regione e a quelle aziende verrà rimborsato il 50% della consulenza. Questo per un valore di 5 milioni, la Presidente Polverini mi ha dato disponibilità, se questo avesse successo, di estenderla ancora a dei plafondi aggiuntivi, vuol dire che subito ci sono 10 milioni tra 5 dell'azienda e 5 della Regione a disposizione di giovani consulenti che possono lavorare nel mondo delle imprese romane e laziali. Dopo il primo mese, perché è stato sottoscritto poco più di un mese fa, l'85% è stato già plafonato. Quindi diciamo c'è stata una grande risposta da parte delle imprese. Lo dicevo al vostro Presidente, se questo atteggiamento venisse replicato per lo stesso importo su tutte le Regioni avremmo 200 milioni da destinare a giovani consulenti e io credo che sia stato anche questo un segnale di novità in un settore importante qual è il vostro. Ma dicevo, nello scenario attuale occorrono consulenti che sono in grado di certificare le strategie, i processi di cambiamento in nome di quella crescita di cui abbiamo tanto bisogno, che è necessaria per sopravvivere in questo mercato in grandissima evoluzione. Sempre di più io credo che alla società di consulenza viene richiesta quella capacità di governare la complessità, quella complessità di cui abbiamo, che ci troviamo davanti in questo mercato più difficile di introdurre processi interni, sistemi di gestione più efficienti, di sviluppare talenti, di rendere consapevoli le aziende dei propri asset, ancorando quella creazione di valore ad obiettivi di lungo periodo e ad una visione più strategica. Di fronte a un mondo così veloce, che richiede grande flessibilità, che va interpretato in modo creativo, ci sono sicuramente tre aspetti, che sono l'innovazione, l'internazionalizzazione e il capitale umano, che sono le tre grandi scelte per uscire dalla crisi. Io proprio sull'innovazione lascio, perché qui si è parlato tanto di questo, e io credo che un grande ruolo debbano averlo anche in termini culturali le aziende di consulenza nel cercare di promuovere innovazione. Ma quale tipo di innovazione? L'innovazione è indubbiamente, a mio avviso, una delle principali determinanti del vantaggio economico di un'economia e probabilmente negli anni attuali io direi anche la più importante. Innovare significa sì introdurre nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove tecnologie, ma significa in generale proprio abbandonare il passato, cioè introducendo cambiamenti, modifiche, nuove vie di sviluppo e affermare nuove soluzioni in grado di sviluppare la domanda. Innovare significa in sostanza riorientare la propria strategia verso il cambiamento continuo. Ecco, questo nei diversi paesi le imprese innovative sono state indispensabili almeno per due ordini di fattore. Uno, da un punto di vista di PIL, perché è acclarato che imprese con alto tasso di innovazione producono maggior PIL rispetto ad altre e dall'altro in termini di apporto, di valorizzazione e rigeneralizzazione del capitale umano, di ricambio nelle specializzazioni che le imprese innovative determinano per tutto il sistema. Questo è particolarmente importante dal momento in cui nuove nazioni a basso valore aggiunto stanno spiazzando i paesi più avanzati, costringendoli, come dire, a ridefinire la value proposition. Ciò ha fatto assumere all'innovazione, in tutti i suoi aspetti, un ruolo centrale all'interno delle strategie con cui le aziende costituiscono la propria posizione competitiva. Il nostro Paese, che è un Paese, come dicevamo, ahimè ancora a forte vocazione manufatturiera, ahimè non, per l'amore del cielo, non perché sia, poi in questa sede non possiamo neanche dirlo troppo, ma costituito in termini di vocazione e poi costituito da piccole e medie imprese, ha intrapreso negli anni quella che spesso gli economisti hanno definito l'innovazione informale più che quella fondata sulla ricerca scientifica e tecnologica. Un'innovazione cosiddetta di tipo incrementale, cioè rivolta al miglioramento dei prodotti, dei processi, dei servizi e meno un'innovazione focalizzata di discontinuità più radicale, basata sulla ricerca e basata a costruire quel vantaggio competitivo stabile e duraturo a livello internazionale. Ci siamo dati, volutamente o involontariamente, una strategia di second best, in cui larga parte del sistema produttivo nazionale si è garantito l'aumento della produttività e la propria posizione competitiva, rinunciando però ad alimentare il proprio sviluppo attraverso quell'innovazione che fa leva sui grandi progetti di ricerca. Quindi abbiamo preferito ridurre costi, migliorare i processi, migliorare i prodotti, piuttosto che costruire innovazione attraverso nuovi prodotti, nuove idee, nuovi modelli di sviluppo. E questo naturalmente facendoci perdere grandi posizioni in termini di competitività, ci fa guardare a quello che sta succedendo nel resto del mondo. In Cina è impressionante, c'è stata un'analisi fatta dalla Royal Society di Londra che dice che entro il 2013 la Cina diventerà il primo paese al mondo per quantità di pubblicazioni scientifiche, che in genere vengono considerate la base per il patrimonio di brevetti che poi successivamente vengono registrati. Noi ancora siamo in una posizione in cui Europa e Stati Uniti sostanzialmente producono circa l'80% dei brevetti registrati a livello mondiale, la Cina solamente il 10%, ma con questa diciamo trend di sviluppo siamo destinati velocemente a invertire anche sul fronte dei brevetti tecnologici e dell'innovazione più spinta le proporzioni. Ecco, la Cina si è data un chiaro obiettivo di diventare anche nel settore della tecnologia e dell'innovazione un paese di riferimento. Invece noi siamo in termini di investimento lordo poco più della Turchia che fa peggio di noi con lo 0,8%. Ecco, eppure noi eravamo un paese da questo punto di vista straordinario, ricordo e lo ricordo spesso che alla fine degli anni 50 la nostra classe dirigente in qualche modo assecondò la prospettiva che vedeva gli Stati Uniti motore dell'innovazione e l'Europa sede della grande manifattura e scelse a quel tempo di non coltivare quelle ambizioni di innovazione che ci avrebbero portato oggi a essere molto più competitivi a livello internazionale. E in particolare ricordo a tutti sempre il caso dell'Olivetti che negli anni 50 con un grandissimo gruppo di ricerca di matematici, statistici, ingegneri, progettò il primo calcolatore elettronico che si chiamava l'Elea 9003 e lo fece con grandissimo anticipo sull'IBM. Ieri ero, assieme al sottosegretario Letta, a festeggiare i 100 anni di vita dell'IBM, gli 85 in Italia e proprio ricordavamo questo aspetto che in Italia addirittura si progettò un primo calcolatore che è appunto l'Elea 9003 mentre l'IBM era ancora in ritardo. Il primo PC, il famoso PC 101 dove P stava per il nome del famoso ingegner Perotto che lo aveva inventato. Anche sul fronte della tecnologia automobilistica spesso dimentichiamo che l'ingegner Palazzetti fu quello che inventò per primo il sistema ABS e poi venne ceduto a Bosch perché lo si riteneva ancora inapplicabile per il nostro sistema industriale. Ecco, grandi scelte che abbiamo perso e le quali vanno certamente non recuperate velocemente perché questo sarebbe impossibile, ma io credo che anche con l'aiuto del mondo della consulenza io credo che si possa spingere le imprese a fare di nuovo quel modello di innovazione e di investimenti che oggi sono quantomeno necessari per il nostro futuro, non tanto immediato ma per il nostro futuro più lungo. Io, e qui concludo, ricordo sempre la frase di un economista come Cipolla, da non confondere perché era con Cipolletta che è, non perché sia di statura economica meno importante, ma insomma, certamente Cipolla diceva sempre che l'Italia è un paese che si deve reinventare ad ogni generazione, perché è un paese che se togliamo gli aspetti culturali non ha nulla, non ha risorse prime, non ha grandi sistemi e quindi di volta in volta ogni 5-10 anni deve trovare al suo interno la forza e le idee per rigenerare il suo mondo industriale ed economico. Ecco, io credo che anche col vostro aiuto, con la vostra spinta, con la vostra energia e con l'intero settore al servizio del mondo delle imprese io credo che si possa mantenere viva questa ambizione, cioè quella che ogni 5-10 anni il nostro sistema economico si reinventi e assicuri un futuro migliore a noi, ai nostri nipoti e all'intero Paese. Grazie e auguri a tutti voi.